Caffè Tommaseo, ristorante American Bar Il Caffè Tommaseo è adiacente alla famosa Piazza Unità d'Italia e al Teatro Comunale Giuseppe Verdi, nella zona più prestigiosa della città di Trieste. È uno dei locali storici d'Italia e il più antico caffè di Trieste. Il locale offre servizi di pasticceria, caffetteria, buffetteria e American Bar. Trovandosi nella nuova zona pedonale di Via San Nicolò, dispone di un grande terrazzo esterno con vista sul mare ed è anche ristorante con ampia scelta di piatti della cucina tipica del territorio e internazionale. Ogni sabato sera, aperitivo e after dinner, con musica dal vivo e caffè concerto la domenica mattina. Da Caffè Tommaseo è possibile organizzare banchetti, rinfreschi, cocktail parties e banchetti nuziali, anche all'esterno nella bella stagione, grazie all'ampio spazio attrezzato con sedie e tavolini, sia per la caffetteria che per il ristorante. La sala interna è completa di strumentazione audio e video per dibattiti e presentazioni a schermo anche con computer. Disponibili anche servizi di Coffee Break e Working Lunch.